Va bene, io ho dovuto aver avviato la registrazione, eccola, vai, procedi. Allora, il seminario di oggi che sarà presentato dal dottor Fabio Fossa, ora del Politecnico di Milano, e da una nostra dottoranda, Irene Sucameli. Quindi, Irene è una vostra collega che viene da informatica umanistica, ha una laurea magistrale in informatica umanistica e sta lavorando sugli agenti conversazionali. E Fabio Fossa è un filosofo morale e anche il docente fino all'anno scorso del corso di Social and Ethical Issues in Information Technology, della laurea magistrale in percorso intelligenza artificiale di informatica. Quindi, Irene ha frequentato il suo corso, ne è rimasta influenzata e sta cercando di portare alcune idee emerse in quel corso nel progetto degli agenti conversazionali. Quindi, lascio senz'altro la parola, non so in che ordine chi comincia, se Fabio o Irene. Prima i signori, facciamo partire Fabio. Facciamo partire Fabio. Quindi, a voi la parola. Grazie, grazie Maria dell'invito e della presentazione. Riuscite a sentirmi? Spero di sì. Riuscite anche a vedere le slide? Se non riuscite, aprite pure il microfono e ditelo, così cambio qualcosa. Perfetto. Allora, sì, come ha detto la professoressa Simi, è una ricerca questa che nasce dalla collaborazione tra noi due ed è una collaborazione nata nel corso, appunto durante la didattica di questo corso Social and Ethical Issues in Information Technology. Quindi, come direi, io ne sono particolarmente fiero. Era una delle mie prime esperienze didattiche, un'esperienza particolare perché, appunto, fortemente multidisciplinare. Io venivo da un dipartimento di filosofia, da studi filosofici. Era la mia prima esperienza al di fuori, diciamo, della mia comfort zone. E quindi, appunto, il fatto che ci sia stata la possibilità di portare avanti questo tipo di riflessione condivisa tra un filosofo e una scienziata, un ingegnere, insomma, una persona con competenze completamente diverse alle mie, è stato divertente e spero che, appunto, i risultati interessino anche voi. Irene, se non vuoi dire qualcosa di introduttivo, io partirei. Sì, 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 ma è pure che abbiamo diverse cose da dire. Perfetto. Allora, come vedete, il titolo del nostro intervento di oggi è Bias di genere e problematiche etiche nella progettazione degli agenti conversazionali, che è il tema, appunto, principale di questo saggio che abbiamo scritto a quattro mani e inviato a Minds and Machines per la peer review. E, niente, quello che faremo oggi è, appunto, presentarvi questa ricerca. Questa è una overview, un indice, diciamo, dei temi che toccheremo nella prossima oretta, più o meno, se ci comportiamo bene. Comincerò con un'introduzione molto generale, giusto per capire di cosa stiamo parlando e per fissare alcuni termini che useremo ed è bene essere chiari sin dall'inizio su, appunto, che cosa abbiamo in mente quando utilizziamo questi termini. Quindi ci sarà prima un'introduzione generale sulla robotica sociale, sui motivi per cui i pregiudizi e i bias di genere rientrano nel discorso della robotica sociale e, appunto, sugli scopi e le metodologie che sono importanti in questo campo di ricerca. e, dopodiché, restringerò un po' il campo, restringerò un po' l'attenzione e parleremo del rapporto tra i pregiudizi sociali, soprattutto, e la pratica del design, cioè della progettazione dei robot sociali. E presenteremo una ricostruzione, diciamo così, di una delle strategie di design più comuni e che emerge abbastanza chiaramente dalla considerazione della letteratura e che abbiamo chiamato bias alignment, allineamento del pregiudizio. Parleremo dei pregiudizi sia in generale e terremo sempre un focus sui pregiudizi di genere che si prestano particolarmente bene, diciamo così, per il nostro discorso. Detto questo, metterò in evidenza quali sono, a nostro avviso, i potenziali rischi che possono emergere dall'adozione di questa strategia di design che, come ho detto, è una strategia abbastanza comune e largamente accettata. E quindi parlerò brevemente, appunto, di questi rischi introducendo questi concetti che ci sono stati utili, diciamo, a questo scopo, cioè l'effetto feedback e l'effetto di lock-in. Dopodiché lascerò la parola ad Irene, che tenterà di concretizzare un po' questo discorso che, come immaginate, è molto generale fino al punto 3 e quindi vi parlerà di casi specifici, soprattutto applicati alla tecnologia che, appunto, compariva anche nel titolo, cioè gli agenti conversazionali e, appunto, con un focus sui bias di genere, quindi su quei pregiudizi che hanno a che fare con associazioni spurie basate sul genere degli interlocutori, genere sessuale degli interlocutori, no, maschio-femmina principalmente. e, fatto ciò, si concentrerà sui possibili campanelli di allarme, quindi su che cosa bisogna criticare, su che cosa bisogna concentrare l'attenzione qui, in questo caso, e quindi analizzerà sia future caratteristiche visive, percettive, soprattutto dal punto di vista della forma e della forma di ciò che possiamo percepire tramite la visione e linguistiche. Quindi due campi completamente diversi l'uno dall'altro che però, come vedremo, hanno delle analogie. Proporremo un'analisi etica di questi rischi e di cosa anche può rispondere o si può rispondere da un punto di vista di progettazione a chi come noi solleva questi rischi e concluderemo con una proposta sull'utilizzo etico o meno di bias nel caso della progettazione di agenti conversazionali. Quindi questo è in generale il percorso che appunto faremo nella prossima retta. Quindi io comincerei senza ulteriore indugio e cominciamo introducendo il tema principale nel discorso di oggi. Cominciamo delineando il contesto entro cui le nostre considerazioni vanno situate e vanno lette. E questo contesto è appunto il contesto della robotica sociale che è una branca particolare della robotica. Particolare per molte ragioni, alcune che io conosco meno, cioè ragioni tecniche, ma soprattutto è particolare per ragioni di contesto. Ora io trovo che sia intuitivo e utile introdurre la robotica sociale mettendo a confronto queste due immagini. Una, l'immagine che io ho sulla mia sinistra, immagino anche voi, è una classica immagine di robotica industriale. Quindi vedete delle macchine, delle macchine intelligenti che sono in grado di coordinarsi nelle funzioni che svolgono. Ma come vedete la cosa che mi interessa notare adesso è che il contesto in cui funzionano, quindi l'ambiente diciamo così in cui funzionano, è un ambiente puramente tecnologico. Non c'è un essere umano che condivide lo spazio di funzionamento con il robot. E questo ha senso per molte ragioni, ragioni di sicurezza, ragioni di coordinamento della funzione della macchina con azioni umane che spesso sono imprevedibili, sono lente, sono imprecise, quindi non collimano bene con il tipo di funzione svolta invece da sistemi robotici. Ma il punto, come vedete quindi, è che in molta robotica, in molta robotica intelligente, gli umani sono fuori dal contesto di funzionamento della macchina. La robotica sociale parte da presupposti completamente diversi. Se ci spostiamo all'immagine alla mia destra, alla nostra destra, vedete che il contesto è completamente diverso, è soprattutto un contesto umano, inizialmente un contesto umano, umano nel senso che è abitato da umani, no? Quindi lo spazio dove il robot funziona è per principio uno spazio condiviso, uno spazio dove c'è la macchina che svolge le sue funzioni, ma c'è soprattutto la componente umana che determina il modo in cui lo spazio è organizzato, determina le relazioni che si intrattengono tra coloro che utilizzano questo spazio e quindi determina anche il modo in cui il robot deve funzionare. Ancora, certo, deve funzionare, ciò significa da un punto di vista di sicurezza che il robot deve muoversi in un certo senso per rispettare appunto questo tipo di esigenze, ma non è solo questo, è anche la funzione in un certo senso del robot che cambia, perché nel campo della robotica industriale, per esempio, si può descrivere la funzione del robot senza alcun riferimento di nuovo a una componente umana, non si può fare lo stesso nel caso della robotica sociale, dove la funzione svolta del robot è sociale per l'appunto, quindi non possiamo descrivere che cosa il robot fa, qual è lo scopo per cui il robot è costruito senza prendere in considerazione la presenza dell'uomo, le esigenze dell'uomo, le intenzioni dell'uomo, eccetera. Bene, questa è un'introduzione molto generica, giusto per capirci, vediamo di specificare alcuni termini che ho utilizzato finora, così sappiamo che cosa abbiamo in mente quando parliamo di questi termini, che come vedete i termini sono da una parte robotica e dall'altra sociale, da una parte robot e dall'altra che cosa si intende per sociale, sono termini ampissimi, sono termini estremamente generici, quindi è bene essere sulla stessa linea, no? Non offrirò definizioni perché offrire definizioni spesso in questi contesti si fa peggio che non farlo, quindi l'idea è di analizzare alcune caratteristiche salienti che nel corso della prossima oretta appunto noi associeremo a questi due termini, robot da una parte e sociale dall'altra, fatto questo avremo una comprensione più chiara di che cosa stiamo dicendo. Partiamo dal termine robot, un termine complesso che è usato appunto in maniere molto diverse, con idee molto diverse alla base dell'uso, eccetera. Quello che noi abbiamo in mente, in maniera molto generale appunto, è il concetto di agente artificiale, quindi quando parleremo di robot, di agente conversazionale, quello che abbiamo in mente è la nozione che spesso è associata all'etichetta agente artificiale, e per agente artificiale si intende un sistema tecnologico, quindi un prodotto, qualcosa di costruito dall'essere umano, che è in grado di svolgere funzioni complesse in modo flessibile, cioè adattandosi all'ambiente senza richiedere costante intervento o supervisione umana. Quindi abbiamo queste tre caratteristiche salienti, che è costruite dall'essere umano, è in grado di svolgere funzioni complesse, che appunto hanno diverse dimensioni, riguardano compiti composti da molti elementi, eccetera, e è in grado di svolgere queste funzioni senza richiedere costante intervento o supervisione umana. Quest'ultima parte è ciò che spesso si definisce autonomia funzionale e negli studi più umanistici sulla robotica e sull'intelligenza artificiale è la proprietà che caratterizza questi sistemi, gli agenti artificiali, la capacità di svolgere funzioni senza richiedere costante intervento o supervisione umana. Quindi questo è quello che vi ho in mente quando parleremo di agente artificiale, agente conversazionale, robot, eccetera. Non specifichiamo, e questo è importante, non specifichiamo il tipo di incorporazione o embodiment, cioè utilizziamo questo termine in modo da includere sia programmi e software che non sono incorporati, come può essere un chatbot che funziona su base testo, quindi tramite la scrittura di frasi al computer e non ha alcun tipo di avatar, oppure agenti artificiali dotati di corpi virtuali, quindi pensiamo a un agente conversazionale con un avatar, un corpo virtuale che appunto rappresenta una forma di embodiment ma non fisico, solo visivo, diciamo così, e poi infine agenti artificiali che invece hanno un embodiment come lo si intende solitamente, cioè un embodiment fisico e spesso quando si parla di robot si ha in mente questo, no? Quindi programmi di intelligenza artificiale, software incorporati in corpi fisici dotati di appunto sensori, effettori e così via. Noi teniamo appunto su questo problema dell'embodiment, diciamo così, noi teniamo una posizione abbastanza generica, generale, perché crediamo che le considerazioni che vi proporremo nelle prossime slide si applicano appunto sia a, e possono applicarsi sia a robot non incorporati, sia a robot con avatar sia a agenti artificiali con un embodiment fisico, perché come vedremo ciò che importa è diciamo la possibilità di utilizzare alcuni elementi del sistema per fare in modo che l'utente proietti dei pregiudizi sulla macchina, e questo può essere fatto in tutti e tre gli esempi, quindi per questo motivo il nostro discorso si applica a tutti e tre questi casi, se per ora non è molto chiaro, non importa, tra qualche slide, spero, che sarà più comprensibile, però appunto tenete a mente questo, quando noi parliamo di robot o di agenti artificiali abbiamo in mente queste caratteristiche. dal punto di vista invece della socialità, cioè come tutto ciò può essere messo insieme alla dimensione sociale, cosa succede quando mettiamo insieme quello che abbiamo appena detto con la dimensione sociale. Qui il punto è che, come abbiamo visto nella slide precedente, l'interazione con gli esseri umani diventa una componente fondamentale della tecnologia, quindi sin dai primi momenti della progettazione io devo tenere conto che sto costruendo un prodotto il cui scopo sarà principalmente interagire con gli esseri umani. E per questo lo chiamiamo sociale, perché lo scopo della tecnologia è l'interazione sociale. E vedete che questa caratteristica è profondamente collegata al tipo di prodotto che stiamo costruendo, che vogliamo progettare, quindi davvero le due dimensioni, la dimensione tecnica e la dimensione sociale non sono come dire due ingredienti separati che mettiamo insieme, fanno parte della stessa attività, dello stesso sforzo progettuale, non sono separabili, sono un tutt'uno in un certo senso. Poi ovviamente si può fare un discorso sul lato sociale e il lato tecnico, però quando faremo un discorso sul lato tecnico non possiamo che riferirci alla funzione sociale svolta dalla macchina e quando facciamo un discorso sociale sul robot non possiamo che chiedere o informarci sulle tecnologie che effettivamente vengono utilizzate per far sì che il robot sia comprensibile come un robot sociale. E il terzo punto che è importante qui tenere a mente quando parliamo di robotica sociale è che dato che l'interazione con esseri umani è una componente fondamentale uno delle condizioni da un punto di vista di progetto è che alcune delle competenze sociali che rendono possibili i rapporti tra esseri umani vengano in un certo senso imitate o riprodotte dalla tecnologia perché solo se noi imitiamo o riproduciamo ciò che rende possibile l'interazione sociale tra esseri umani possiamo sperare che il robot sia compreso la gente artificiale sia intuito come un attore sociale cioè come un membro di quella stessa dimensione in cui noi ci muoviamo creiamo relazioni eccetera lo scopo finale come vedremo tra un attimo è questo fare in modo di inserire nel tessuto sociale dei prodotti tecnologici e fare in modo che siano progettati in modo tale che gli utenti li riconoscono anche intuitivamente non per forza in maniera riflessiva ma intuitivamente come oggetti che appartengono a questa dimensione non come degli strani non come qualcosa che non dovrebbe essere lì dov'è perché è qualcos'altro ma come degli attori sociali incontro un essere umano incontro che ne so un animale da compagnia incontro un robot non c'è una rottura in questi tre incontri c'è una continuità questo è lo scopo fondamentale della robotica sociale due esempi giusto per chiarirci sono Aibo sulla sinistra il robot cane della Sony e Cosmo che invece è un robottino come vedete molto carino ha delle espressioni facciali sul monitor quindi ha questi occhi che si modificano e l'idea è che appunto la forma degli occhi trasmetta delle emozioni all'utente e che quindi è portato a concepirlo come esattamente un attore sociale perché le emozioni sono una delle competenze più o uno degli elementi diciamo più più importanti nelle interazioni tra tra esseri umani quindi Cosmo e Aibo sono due possibili esempi che anche ci fanno capire qualcosa perché da una parte Aibo è un robot che è stato sviluppato esclusivamente a scopi di intrattenimento quindi capiamo subito che l'intrattenimento è uno come dire è uno degli scopi per cui si costruiscono questo tipo di tecnologie mentre Cosmo è parzialmente costruito per intrattenere gli utenti ma può anche essere utilizzato per scopi didattici e quindi si capisce che non si tratta semplicemente di appunto intrattenere o creare una sorta di quasi compagni ma ci sono anche altri scopi tipicamente sociali come appunto passare informazioni formare altri esseri umani che possono ricevere supporto da prodotti tecnologici di questo tipo ok quindi questo in generale per introdurre la robotica sociale e chiarire che cosa abbiamo in mente quando utilizziamo questi termini ora passiamo agli scopi della robotica sociale passiamo in rassegna brevemente qualcosa già emerso e capiamo perché tutto ciò ha a che vedere con pregiudizi e stereotipi che come vi ricordate è la seconda componente principale del discorso che faremo io e Irene quindi abbiamo capito quali sono gli scopi della robotica sociale giusto innanzitutto sviluppare tecnologie che siano in grado di integrarsi nei contesti sociali d'uso è importante come si diceva prima che quando si incontra il robot sociale sul posto di lavoro magari in ospedale al centro commerciale insomma in questi contesti dove i robot sociali possono essere utilizzati e sono anche già utilizzati la cosa importante è che non ci sia la percezione di imbattersi in qualcosa di estraneo di alieno ma è importante che l'utente percepisca che la tecnologia in cui si imbatte è perfettamente integrata è in grado di stare al gioco sociale quindi è in grado di giocare il gioco sociale che tutti noi giochiamo quando stiamo in società in maniera simile quindi è importante anche uno degli scopi è progettare tecnologie con cui è facile divertente coinvolgente soddisfacente interagire quindi capite che il tema dell'efficienza quando una tecnologia è efficiente qui si complica perché non è semplicemente la questione non è semplicemente di fare in modo che la tecnologia svolga funzioni ben definite in maniera efficiente o meglio nel concetto di efficienza c'è anche il modo in cui queste funzioni sono presentate all'utente il modo in cui l'utente è trattato in un certo senso dalla tecnologia quindi la dimensione sociale determina l'efficienza della tecnologia non si tratta solo di questioni tecniche ma anche di capire come presentare da un punto di vista sociale i risultati delle funzioni in modo che l'utente sia a proprio agio che ritenga che i risultati della tecnologia siano affidabili si diverta nell'interagire ritenga che l'interazione è facile sia coinvolto e sia soddisfatto dell'esperienza al 100% in senso complesso un punto sulla familiarità l'abbiamo già detto ci ritorno brevemente è importante che l'interazione sia familiare quindi bisogna ridurre al minimo il senso di estroneità nell'interazione con la tecnologia e ultimo punto bisogna far sì che il robot sia percepito o se vogliamo usare una parola un po' più complessa ma un po' più generale forse migliore che il robot sia esperito dagli utenti come se fosse un attore sociale come se in tutto e per tutto sia un membro della società un membro appunto del gioco che giochiamo un giocatore del gioco che giochiamo tutti noi quando ci relazioniamo gli uni agli altri ora la cosa importante da capire qui e che ci porta diciamo nel vivo del discorso è che una componente importante importantissima anzi costitutiva del modo in cui noi ci relazioniamo gli uni agli altri sono i pregiudizi e gli stereotipi quindi se noi vogliamo costruire un robot che sia percepito come attore sociale è necessario che ci occupiamo anche da un punto di vista di robotica quindi anche da un punto di vista di design di pregiudizi e stereotipi chiariamo velocemente che cosa si intende con questi con questo termine quindi cosa sono in generale i pregiudizi o perlomeno come noi intendiamo il concetto di pregiudizio nella nostra ricerca e presentiamo brevemente una specificazione di questi pregiudizi che sono in bias di genere quindi legati appunto al genere sessuale molto in generale i pregiudizi possono essere definiti come credenze preferenze o tendenze basate su generalizzazioni prive di supporto razionale o scientifico quindi siamo nella dimensione della psicologia umana ci interessa sapere che cosa sono i pregiudizi in relazione alla psicologia umana e appunto si possono definire in questo modo quindi delle associazioni delle generalizzazioni che noi sviluppiamo per esperienza e che rendiamo operative senza che ci sia diciamo un supporto razionale o scientifico che ci provi che le nostre associazioni o le nostre generalizzazioni siano effettivamente razionali i pregiudizi possono essere espliciti o impliciti cioè possono essere operazionalizzati in maniera esplicita cosciente perché c'è una convinzione empirica del contenuto di questa generalizzazione o di questa associazione o possono essere impliciti cioè possono essere operazionalizzati possono essere utilizzati senza avere coscienza di essere sotto l'influsso di un pregiudizio quindi io posso decidere che domani farò una gita in montagna perché stasera il cielo è rosso il rosso di sera bel tempo si spera lo so è esplicito decido domani andare in montagna oppure io sono cresciuto in una famiglia dove l'associazione il rosso di sera bel tempo si spera era profondamente radicata ma nessuno l'ha mai esplicitata e quindi quando vedo il rosso di sera penso bene domani vado in montagna ma non so che sto ragionando sotto l'influsso di questa associazione quindi può essere esplicito o implicito è un modo di ragionare che ha una sua funzione ed è per questo che diciamo è stato conservato nel corso evolutivo permette queste associazioni o generalizzazioni spurrie o diciamo non prive di supporto razionale permettono di gestire situazioni complesse o incerte quindi situazioni in cui non abbiamo le informazioni che vorremmo avere tramite reazioni rapidi e spesso appropriate e le conosciamo le conosciamo tutti questo tipo di associazioni spesso le chiamiamo regole empiriche o massime dell'esperienza in inglese c'è questo termine rules of thumb che può essere utile per capire di cosa stiamo parlando bene quindi questi per questo si intende cioè con pregiudizi noi intendiamo questo non tutti i pregiudizi sono eticamente problematici quindi la dimensione etica sarà importante in questo discorso che noi facciamo diciamo subito che non tutti i pregiudizi sono problematici ad esempio alcuni pregiudizi possono essere neutrali cioè possiamo avere che ne so una propensione per un certo tipo di che ne so un certo tipo di colore di fiori perché pensiamo che questo generi una certa reazione nella nostra consorte o nel nostro consorte non c'è alcun tipo di supporto razionale di questa credenza è un'associazione ma non facciamo male a nessuno nel comprare sempre quel tipo di fiori o nel cogliere sempre quel tipo di fiori per esempio oppure ci sono dei pregiudizi veridici io posso credere in un'associazione per i motivi sbagliati ma l'associazione in sé potrebbe essere dimostrabile con il metodo scientifico quindi ci sono molti tipi di pregiudizi molti tipi di associazioni scurie non tutte sono problematiche generalmente possiamo dire che sono eticamente problematiche quando contengono discriminazioni che danneggiano la dignità di individui ovvero quando si riduce questo è un pattern comune dei pregiudizi morali quando si riduce l'individualità di un singolo alle caratteristiche del gruppo questo è esattamente quello che si fa con i pregiudizi di genere quindi per fare un esempio per capirci meglio per capire meglio quando dobbiamo drizzare le orecchie perché potremmo essere davanti a dei pregiudizi eticamente problematici spesso nei bias di genere i bias di genere appunto sono dei pregiudizi basati sulla percezione del genere dell'interlocutore o insomma dell'essere umano di cui si sta parlando e si associa a questa percezione si associano delle qualità sociali questa è una struttura estremamente diffusa estremamente radicata nel modo in cui la nostra psiche funziona ci sono moltissimi innumerevoli studi psicologici che mostrano come noi associamo qualità sociali a generi sessuali qua ci sono alcuni esempi spesso associamo alla percezione che l'interlocutore è maschile ad esempio segue il fatto che gli viene attribuita competenza forza autorità mentre la percezione che l'interlocutore è femminile segue l'associazione e la segue scusate l'idea per cui l'interlocutore è dotato di più sensibilità emotività è in grado di prendersi cura degli altri e di me come suo interlocutore eccetera spesso questo tipo di pregiudizio è eticamente problematico proprio perché si riduce l'individuo a generalizzazioni che sono prive di supporto razionale o scientifico e quindi non rispetto alla dignità del singolo un esempio può essere appunto il fatto che non associamo la competenza per istinto quindi implicitamente non associamo l'idea di competenza alla percezione del genere femminile questo chiaramente può portare problemi perché appunto si riduce l'individualità dell'interlocutore con cui stiamo interagendo ha una generalizzazione che però non ha alcun fondamento sulla effettiva competenza del singolo quindi questo è una carrellata su pregiudizio e bias di genere noi a noi interessa questa questa dinamica ovvero il fatto che si legge da sinistra a destra quindi quando una persona percepisce alcuni aspetti alcuni caratteri in inglese questo funziona bene si chiama cues alcuni segnali possiamo dire alcune indicazioni nell'interlocutore quindi a livello percettivo io percepisco alcuni cues alcuni segnali che stimolano associazioni e da queste associazioni nascono delle aspettative nei confronti del comportamento del mio interlocutore quindi facciamo ancora un esempio io percepisco dei caratteri tipicamente femminili nel mio interlocutore questi caratteri femminili danno avvio ad associazioni come quelle che abbiamo visto quindi il genere femminile è più emotivo ad esempio o più sensibile e quindi io creo un modello mentale del mio interlocutore e mi aspetto che l'interlocutore si comporti in un certo modo e naturalmente in base alle aspettative nel gioco sociale in base alle aspettative io modifico anche il mio comportamento quindi questa diciamo è la relazione che a noi interessa perché ci interessano i bias nella robotica sociale perché tra umani funziona così ora il punto è cosa succede quando non interagisco con un essere umano quindi quando il mio interlocutore non è un essere umano ma è un prodotto tecnologico e in questo caso un robot sociale succede che il robot sociale in un certo senso deve essere percepito come se fosse un attore sociale gli attori sociali solitamente sono esseri umani quindi l'idea è che il robot sociale deve essere percepito come se fosse un attore sociale umano e noi sappiamo da studi psicologici o di human machine interaction molto celebri di qualche anno fa che tendenzialmente quando un prodotto sociale occupa un ruolo di carattere sociale scusatemi quando un robot o una macchina occupa un ruolo di carattere sociale quindi in cui c'è interazione gli esseri umani tendono a percepirlo proprio come se fosse un attore sociale cioè si creano un modello mentale della macchina basato sui modelli mentali degli agenti sociali degli attori sociali e reagisce a questo sistema come generalmente reagisce a attori sociali quindi da un punto di vista di design quando io mi trovo a progettare un robot sociale tutte queste cose le ho in mente e avendo in mente tutte queste cose diciamo che si definisce un po' la missione o il mio obiettivo l'obiettivo è venire incontro a queste aspettative cioè fare in modo che l'utente che si imbatte nella tecnologia possa come dire fare affidamento su quel bagaglio di conoscenze quel bagaglio di pregiudizi quel bagaglio di idee che vengono attivate nelle altre normalissime interazioni sociali questo è il mio scopo quindi soddisfare le aspettative sociali degli utenti riducendone al minimo lo sforzo cognitivo era quel discorso che si faceva sulla familiarità e le stranità cioè non vogliamo che quando l'utente si imbatte nel robot debba fare uno sforzo cognitivo per interagire con il robot vogliamo che interagisca come interagisce sempre nell'arena sociale quindi un metodo per ottenere ciò consiste nel registrare le aspettative degli utenti compresi gli stereotipi perché come abbiamo visto gli stereotipi i bias i pregiudizi hanno un effetto sulle aspettative che uno ha circa il comportamento degli altri attori sociali quindi innanzitutto registrare queste aspettative e poi adeguarsi cioè fare in modo che il robot presenti gli stessi cues gli stessi segnali che presenta un attore sociale in modo che nella relazione tra utente e robot vengano attivate le stesse dinamiche psicologiche quindi gli stessi bias quindi gli stessi pregiudizi che si attivano nelle normali interazioni sociali in questo modo il robot sarà parte del gioco sarà integrato nella dimensione sociale e gli strumenti che noi abbiamo a livello di design per fare ciò sono i cosiddetti design cues cioè caratteri facilmente percepibili da parte dell'utente che l'utente percepisce con facilità e che sono spesso associati a qualità sociali desiderate o a qualità sociali che noi da un punto di vista di progetto riteniamo desiderabili cioè che noi vogliamo che l'utente proietti sul sistema ci sono degli esempi ora uno potrebbe stupirsi della semplicità con cui si può spingere gli utenti a proiettare competenze sociali o qualità sociali su robots sui robot utilizzando questi design cues in effetti è una cosa davvero particolare basta pochissimo basta associare ad esempio un colore a un chatbot per cui se il come dire se il pallino che compare di fianco alle scritte in uno scambio di di battute tramite tastiera è rosa o blu l'utente tenderà a associare la dimensione femminile al chatbot col pallino rosa e la dimensione maschile al chatbot col pallino blu cioè è facilissimo fare in modo di attivare queste dinamiche alcuni esempi oltre al colore che è particolarmente che non so mi ha colpito per la banalità dell'intervento altri cues possono essere la voce tendiamo ad associare a voci basse di tono di tono basso un carattere maschile e quindi tutto ciò che tendiamo ad associare al genere maschile autorità competenza affidabilità eccetera e voi vedete che sono qualità sociali importanti quando io voglio costruire una macchina che interagisca con gli utenti in maniera efficiente se io posso fare in modo che l'utente percepisca la funzione quale che ne sia la qualità come affidabile è una cosa positiva per me come designer oppure la figura smussata associamo se vogliamo passare a casi di embodiment fisico oppure avatar le figure smussate tendono ad attivare i bias legati al carattere femminile e quindi abbiamo già detto affidabilità sensibilità propensione alla cura eccetera quindi l'idea è un po' questa dove prima c'era l'essere umano ora c'è il robot noi utenti siamo portati a comprendere il robot in posizioni in ruoli sociali come agenti sociali quindi se io progetto il robot e inserisco nel progetto del robot questi cues questi segnali che fanno partire le associazioni stereotipizzate o basate su peggiovizi posso fare in modo di in un certo senso manipolare le aspettative degli utenti e fare in modo che appunto si fortifichi la percezione di questi di questi sistemi come membri del gioco sociale ora e mi avvio alla conclusione della mia parte quali possono essere i problemi qui i problemi possono essere sono questi sostanzialmente naturalmente i problemi si presentano se e solo se la prima premessa da dire è questa cioè nel caso che il pregiudizio è attivato dai nostri segnali dal cues quindi nel caso che i cues che noi scegliamo attivino dei pregiudizi che sono discriminatori è un problema questo da un punto di vista di etica della progettazione o no il rischio a nostro parere che può nascere qui è il seguente guardiamo un attimo la figura che spiega questo concetto forse un po' intricato in maniera visiva che aiuta abbiamo preso il caso della segretaria il fatto che noi associamo al lavoro di segretariato che non ha alcun genere tendiamo a associare invece un genere cioè tendiamo a pensare che il lavoro di segreteria sia appunto il lavoro per le segretarie per la segretaria e tendiamo ad associare alla segretaria anche certi tipi di caratteri fisici e psicologici e questo è chiaramente un problema è discriminatorio è ovvio che è discriminatorio però queste sono le aspettative di fatto no? di fatto io posso misurare che diciamo ora questi sono dati è un esperimento mentale però diciamo che posso fare uno studio poniamo che io abbia fatto uno studio psicologico che mi dimostra che l'80% dei maschi bianchi cinquantenni che ricoprono posizioni di alto livello in azienda hanno un'idea di segretaria come ragazza giovane avvenente e basta ragazza giovane avvenente io devo progettare un bot un chatbot dosato di avatar diciamo così e devo fare in modo che si integri per fare in modo che si integri la mia idea di progettatore è vediamo quali sono le aspettative del mio gruppo d'uso e riproduciamole quindi viene naturale dire bene quando farò l'avatar del mio chatbot io lo riprodurrò come una ragazza giovane avvenente qual è il problema il problema è che a nostro avviso si può generare in questo caso un rischio cioè il rischio è che questa attività di design si rifletta sul sulle aspettative che gli utenti hanno non solo nei confronti della macchina o diciamo così del robot specifico ma utilizzeranno le stesse categorie poi per concepire la propria relazione con altri esseri umani che occupano il medesimo ruolo quindi altre segretarie cosa significa significa che il pregiudizio qui viene trasferito dall'umano dalla dimensione della relazione sociale alla dimensione della relazione con la macchina ma la relazione con la macchina rafforza delle aspettative che poi inevitabilmente vengono di nuovo trasferite alla dimensione umana proprio perché non c'è una scissione un'estraneità che separa nettamente la dimensione delle interazioni con la macchina dalle dimensioni con le interazioni con l'umano e quindi c'è una sorta di osmosi tra questi due campi e si rischia quindi che il bias il pregiudizio sfruttato a livello di design poi abbia un feedback sulle relazioni che gli utenti hanno con altri esseri umani che occupano la millesima posizione sociale e questo in un certo senso porti a un effetto di lock-in cioè il bias il pregiudizio viene fossilizzato si fossilizza rendendo molto più difficile lo sforzo di correggerlo presupponendo che appunto questo tipo di pregiudizi discriminatori da un punto di vista sociale siano da correggere nel lungo periodo cioè che la società abbia il compito comunque reputi importante correggere questo tipo di bias per arrivare ad ottenere una cultura più inclusiva meno discriminatoria eccetera quindi la domanda principale della nostra ricerca è come comportarsi da un punto di vista del design quindi noi prendiamo il punto di vista del progettatore e ci chiediamo come comportarsi nel caso di pregiudizi discriminatori eticamente problematici è lecito adeguarsi alle aspettative degli utenti per massimizzare l'adozione e l'accettazione sociale della tecnologia quando queste aspettative sono basate su pregiudizi morali quindi questa è l'impostazione generale della nostra ricerca e queste sono le domande che ci poniamo stiamo andando in questa direzione se noi prendiamo in considerazione quali sono i robot umanoidi che sono stati proposti nel corso degli ultimi cinque anni per prendere il posto di receptionist troviamo due degli esempi più noti sono questi attroid e erica un robot umanoide sviluppato dal laboratorio di roshishiguro in giappone e come vedete il modo in cui sono immaginati e poi progettati e poi realizzati i robot receptionist sono esattamente quello si riproduce le aspettative sociali ragazze giovani e cui viso riprende delle diciamo visioni generalizzate degli stereotipi circa la bellezza della ragazza del canone ecco scusate mi mancava la parola il canone della bellezza all'interno della cultura giapponese questi sono due esempi che vengono da Giappone ma il discorso può essere generalizzato quindi il punto è questo la direzione che noi stiamo prendendo è questa e quindi ha senso porsi a nostro parere le domande che ci siamo posti bene io ho finito quindi Irene se vuoi prendere la parola ti lascio il campo grazie un secondo che mi metto muto così non ti disturbo vai vai ok allora prima prima di tentare appunto di rispondere alle domande che vi ha accennato Fabio volevamo inquadrare un po' di più il problema in riferimento a una tecnologia specifica che è quella appunto degli agenti conversazionali e in particolar modo degli embodied conversational agent ossia di quei sistemi dotati di appunto un avatar virtuale per chi non fosse molto familiare con questo termine gli agenti conversazionali sono sistemi realizzati con lo scopo di simulare un'interazione tra esseri umani questa interazione può avvenire tramite messaggi testuali o vocali e comunque utilizzando il linguaggio naturale perché alcuni di questi sistemi presentano un avatar virtuale diversi studi hanno dimostrato che la presenza di un avatar e quindi ovviamente anche edificio di genere permette di facilitare l'interazione tra gli esseri umani e la macchina tutto questo avviene perché come anche diceva già Fabio quando gli esseri umani devono rapportarsi in particolar modo devono conversare con un oggetto inanimato tendono a provare un forte senso di disagio che può essere ridotto se riconoscono nella macchina in alcuni tratti culturali sociali di genere in questo caso a loro già noti quindi l'inserimento di queste feature permette di ridurre il disagio ho provato durante l'interazione con un oggetto inanimato come avviene l'attribuzione di genere negli agenti conversazionali questo lo riprendo molto brevemente perché è stato già accennato può essere legato alla riproduzione di particolari timbio vocali quindi un tono di voce più acuto verrà associato alla sfera femminile mentre un tono di voce più basso e grave alla sfera maschile o ancora si può utilizzare in maniera simbolica il colore oppure possiamo inserire una serie di elementi che fanno riferimento alle caratteristiche fisiche quindi ad esempio occhi più grandi e rotondi sono associati alla sfera femminile mentre più piccoli e stretti vengono associati alla sfera maschile così come anche spalle più larghe rientrano nella sfera maschile mentre un bacino più largo nella sfera femminile tutti questi elementi vengono individuati immediatamente dagli utenti che si trovano a rapportarsi con i social robot o nel nostro caso con gli agenti conversazionali ad esempio anche se forse non conoscerete questi due robot che sono Pino e Posi sono sicura che la maggior parte di voi sarà immediatamente in grado di capire qual è il sistema con connotazione maschile quindi malebot e qual è invece il sistema con connotazione femminile quindi fembot per giusto per dare conferma all'intuizione probabilmente di tutti Pino il robot con connotazioni maschili è quello più esterno quello di destra mentre Posi il robot con connotazioni femminili è a sinistra Pino infatti presenta delle forme molto più squadrate e spigolose a partire dalla testa dal collo più tozzo dal torace quadrato quasi dalle braccia più larghe mentre Posi invece viene raffigurata con questa sorta di vestitino bianco la parte superiore del capo che ricorda un taglio a caschetto gli occhi invece più tondi rispetto a Pino che invece ha questa sorta di visiera e così via prossimo ok quindi la domanda che potreste porvi e potreste porci è appunto sì che vengono inseriti questi elementi di genere però qual è il problema il problema è come diceva anche Fabio è che la presenza di questi elementi può influenzare anche presentemente talvolta le aspettative e i modelli mentali che gli utenti hanno quando interagiscono con gli agenti conversazionali appunto i mailbot verranno visti istintivamente come sistemi della personalità più forte e più dominante mentre i fanbot verranno considerati come più gentili più comunicativi e disponibili di conseguenza cambia anche il tipo di task che è associato all'uno o all'altro al primo ad esempio i mailbot vengono associati i task relativi alla sicurezza o ad esempio all'insegnamento di discipline quali la matematica e la fisica mentre i fanbot vengono utilizzati sia che siano robot sia che siano agenti conversazionali per la cura della persona quindi anziani bambini o l'insegnamento di materie come lettere lingue materie artistiche e così via proprio perché questi ultimi sono considerati più adatti ad affrontare tematiche relative all'area relazionale di salute benessere e così via anche per questo motivo i sistemi i sistemi dialogici come Siri Cortana e così via hanno tutti di base un setting con connotazioni femminili quindi voce femminile nome femminile ma anche personalità femminile proprio perché è stato visto che gli utenti avrebbero avvertito come troppo dominante e potenzialmente anche minaccioso un assistente vocale che avesse una connotazione invece maschile perché tutto questo causa un campanello o può causare un campanello di allarme perché di fatto no ok ritorno a quella di prima ok grazie di fatto questo tipo di suddivisione dei task ricalca la suddivisione dei compiti che vengono attribuiti agli uomini e alla donna all'interno della società ma ancora di più il problema è non soltanto appunto che rappresenta un comportamento stereotipato negativo ma che ha trasferito quindi dagli esseri umani dalla società ai agenti conversazionali ai robot ma ancora di più risulta problematico perché la riproposizione di questi tipi di suddivisione di task consente la il rafforzamento di stereotipi negativi nella società quindi come diceva anche Fabio la relazione con la macchina porta a un rafforzamento di aspettative negative ok prossimo uno dei modi con cui vengono in primo luogo trasmessi questi bias negativi questi stereotipi è attraverso feature visive uno dei casi più eclatanti nel caso degli agenti conversazionali è Cyberella Cyberella è appunto potete vedere a sinistra un agente conversazionale di presentazione rappresentato con minigonna tacchi alti una maglietta particolarmente aderente quindi tutta una serie di caratteristiche che di fatto non hanno nulla a che fare con il task a cui questo agente conversazionale era preposto e che quindi contribuiscono a diffondere una visione stereotipata della donna ma anche senza arrivare agli estremi di Cyberella abbiamo il caso della robot receptionist di cui parlava Fabio che ancora una volta ripropone anche se in maniera più ottenuata comunque delle immagini stereotipate sia della figura femminile che anche del ruolo all'interno della società poi per la gioia di tutti i linguisti presenti ovviamente questi stereotipi possono essere trasmessi e vengono trasmessi attraverso il linguaggio per quanto riguarda il linguaggio c'è da fare prima una breve introduzione evidenziando che nei casi in cui gli utenti si trovino particolarmente a disagio a conversare con un sistema inanimato come un agente conversazionale può avvenire talvolta che proprio per ribadire anche in maniera inconscia la differenza di status tra esseri umani e macchine gli utenti utilizzino un linguaggio fortemente discriminatorio e assumano un atteggiamento dominante questo è tanto più vero quando i chatbot sono connotati con elementi di genere femminile i fanbot infatti tendono a ricevere più abusi verbali e più input che contengono termini legati alla sfera sessuale e fisica ad esempio nel caso che vi ho proposto nelle slide vengono riportate una serie di interazioni tra gli utenti e un chatbot con connotazione femminile che è ti potete vedere che in breve la conversazione degenera che ti riceve una serie di richieste inappropriate o di insulti le vengono chieste se è disposta a fare una serie di atti sessuali e così via prossimo quindi la presenza di riferimenti sessuali espliciti è tutt'altro che rara nell'interazione tra utenti e agenti conversazionali e fanbot nello specifico questi tipi di input negativi possono essere a loro volta suddivisi in quattro categorie la prima riguarda una serie di riferimenti che forse anche qualcuno qui presente in maniera anche inconscia ha fatto durante le prime interazioni con un chatbot ossia i riferimenti a genere e sessualità questa prima classe copre delle domande che vanno da what is your gender a do you have a boyfriend do you have a girlfriend e così via poi abbiamo i commenti legati alla sfera più prettamente sessuale quindi a domande del tipo I love watching porn ma anche I love you e poi insulti e richieste e domande esplicite che abbiamo visto invece appunto nel caso di chatty nelle interazioni con gli utenti tutto questo ovviamente fa scattare un secondo campanello di allarme infatti l'utilizzo di questi termini nelle conversazioni con i fanbot presenta un forte impatto sull'evoluzione degli stereotipi di genere inoltre la presenza di questi elementi oltre a offrire una drammatica rappresentazione di come le donne siano considerate e approcciate nella nostra società infatti sono sicura che tutte le donne presenti oggi abbiano ricevuto almeno una volta nella vita purtroppo uno di questi atti uno di questi abusi inoltre come nel caso anche della presenza di feature visive stereotipate anche in questo caso la presenza di elementi discriminatori può portare a un incremento degli abusi verbali verso le donne nella società per una sorta di transfer tuttavia non sono soltanto gli input che il sistema riceve dall'utente a essere problematici ma in questo caso anche le risposte che il sistema fornisce a riguardo nello specifico quando vengono ricevuti questi messaggi discriminatori gli agenti conversazionali vengono generalmente programmati per rispondere in uno dei seguenti modi in una di queste tre tipologie appunto di risposte la prima riguarda le risposte insensate non grammaticali o non coerenti o del tipo I don't know I don't understand e così via poi abbiamo le risposte negative che possono variare da rifiuti gentili o ironici fino a insulti verso l'utente nel caso più estremo infine abbiamo anche le risposte positive che però vedremo di fatto non sono positive ossia il sistema riceve in input un messaggio contenente contenuto discriminatorio lo accetta e risponde a sua volta con flirt e scherzi tutte queste tipologie di risposte presentano a loro volta però dei problemi di carattere etico a partire dalla prima il tipo di risposte insensate infatti è considerato generalmente il meno pericoloso e per questo motivo è anche una delle politiche di risposte più attuata quando infatti si riceve un input dall'agente conversazionale del tipo I don't know I don't understand si tende a interrompere il dialogo che si stava portando avanti e a ricominciarne un altro su un argomento diverso quindi in questo caso l'idea alla base è quella di interrompere un dialogo potenzialmente pericoloso ed evitare la riproposizione di certi messaggi tuttavia qui il problema come anche dicevo prima è che di fatto non si corregge l'atteggiamento discriminatorio dell'utente cosa che invece la tecnologia moderna potrebbe benissimo fare avendo un impatto più positivo sia sull'utente e quindi sulla singola conversazione sia poi anche in generale sulla società moderna quindi il primo problema legato alla prima tipologia di risposta è il fatto di trascurare la problematicità della risposta legata a un determinato input il secondo tipo di risposte le risposte negative risultano risultano essere problematiche non tanto nei casi di rifiuti gentili quanto piuttosto ovviamente nel caso la macchina inizia a insultare l'utente in questo caso si apre tutto il problema dell'immoralità della produzione di un output offensivo da parte della macchina verso un essere umano e nei casi più estremi si può arrivare al caso di tai che probabilmente tutti conoscete tai era un chatbot realizzato da microsoft rilasciato nel 2016 che dico era perché nel giro di 48 ore è stato ritirato dal mercato proprio perché in breve tempo era diventato filonazista razzista e tutto quello che di peggio poteva diventare e aveva iniziato quindi a insultare gli utenti e a diffondere messaggi discriminatori quindi il punto 2 legato alla risposta di tipo negativo è sensato problematico ma anche se potrebbe non sembrare anche la terza tipologia di risposte ossia le risposte positive sono di fatto potenzialmente pericolose infatti rispondere in maniera positiva con degli scherzi o dei flirt a un tipo di messaggio discriminatorio trasmette l'idea che l'utilizzo di un certo linguaggio e la trasmissione di determinati messaggi sia non soltanto accettabile ma persino divertente di conseguenza l'idea che viene rafforzata negli utenti è che anche le donne o comunque tutte le categorie sociali che si trovano ricevere e a subire determinati comportamenti discriminatori dovrebbero non soltanto accettare tali comportamenti ma anzi quasi prenderli sul ridere cosa che ovviamente non è accettabile quindi il problema qual è? il problema è come si diceva prima è quello di trovare un equilibrio tra la necessità di integrare feature di genere e in generale feature sociali per permettere all'utente di avere un rapporto più tranquillo e senza frizioni con l'agente conversazionale dall'altro bisogna ripensare al design appunto degli agenti conversazionali e i social robot in generale in modo tale da ridurre i bias che questi possono più o meno volontariamente anche suscitare o diffondere incrementando così l'utilizzo etico degli agenti conversazionali quindi ad esempio se volessimo introdurre un sistema con caratteristiche femminili piuttosto che un caso come Saiberella che promuove una visione fortemente stereotipata della donna è meglio Posi che invece pur presentando feature di genere evidentemente femminili non costituisce una particolare fonte di visione discriminatoria della donna prossima ok ti ricedo la parola prendo la parola un momento io poi la ripassiamo a Irene per introdurre la questione etica quindi abbiamo capito quali sono le domande fondamentali abbiamo capito che cosa è in gioco qui certamente si possono difendere diverse posizioni diverse risposte diciamo così alle nostre domande non tutte risposte che vanno nella direzione che Irene vi ha appena anticipato quindi possono esserci anche delle risposte alternative rispetto all'idea di servirci o servirsi di queste rappresentazioni in maniera diciamo così etica o responsabile ci sono delle posizioni estreme che volevamo presentarvi abbastanza brevemente che colgono estreme perché colgono diciamo i due estremi in un immaginario continuo tra le risposte che si possono dare a questa domanda da una parte c'è una risposta che tende a accantonare il problema come qualcosa che non riguarda il design ma riguarda la società e vedremo in che senso dall'altra c'è invece l'idea del principio precauzionale quindi una reazione molto forte che ha che appunto è estrema dall'altro senso e quindi ha una posizione molto netta su cosa fare con questo tipo di design cues partiamo con la prima che appunto risponde alle nostre domande dicendo che sostanzialmente non è un problema per il design e diciamo che l'intuizione su cui si basa questa risposta è che è impossibile discriminare o è impossibile violare la dignità di un chatbot o di un robot sociale perché evidentemente dignità e discriminazioni possono essere rivolte semplicemente a esseri umani e non a prodotti tecnologici i prodotti tecnologici non sono dotati diciamo così a livello sociale dello stesso status di cui noi dotiamo i nostri simili o la vita animale se è per questo anche e soprattutto degli animali da compagnia e quindi partendo da questa intuizione dal punto di vista della progettazione uno potrebbe dire siccome appunto è impossibile discriminare o violare la dignità di una macchina di un prodotto tecnologico il fatto che certi pergiudizi siano in gioco non è responsabilità dei progettatori o di chi sviluppa la tecnologia ma la responsabilità è sociale quindi chi si occupa di influenzare una certa cultura di formare una certa cultura quindi l'ambito insomma più politico più culturale più formativo della società e il ragionamento qui si svolge in questo senso il progettatore non ha interesse nei contenuti dei bias che sfrutta cioè se un progettatore utilizza un bias discriminatorio non lo utilizza perché pensa che sia corretto discriminare in quel senso lo utilizza perché di fatto quello è un elemento di come la relazione che vuole riprodurre si determina si specifica si manifesta quindi però non c'è un interesse del designer nel contenuto del pregiudizio c'è un interesse nella registrazione del pregiudizio di fatto e nella sua riproduzione nella macchina quindi da una posizione di design si potrebbe dire io non ho la responsabilità di educare la società io ho la responsabilità di creare tecnologie di produrre scusate tecnologie che si integrano bene nel tessuto sociale è invece compito della politica intesa in senso estremamente lato della cultura quello di promuovere una società dove i pregiudizi sono sempre più innocui e quindi dove i pregiudizi immorali sono combattuti ed eliminati quando la società arriverà ad una situazione in cui questi saranno questo tipo di pregiudizi sarà fuori dal quadro io non avrò più io progettatore non avrò più questo problema perché i pregiudizi che intercetterò tramite uno studio di fatto di quali pregiudizi di fatto sono importanti per la relazione saranno pregiudizi non rilevanti da un punto di vista etico però capite qual è il punto l'idea è che il progettatore è semplicemente uno specchio della come dire del livello diciamo così del tipo culturale della società e se non ci piace il nostro corpo allo specchio non ha senso prendersela con lo specchio ha senso prendersela con noi stessi perché la sera mangiamo fuori pasto eccetera no capito questa è una un possibile modo di concepire la questione c'è un limite però a nostro parere nell'impostare la questione in questo senso e cioè che è estremamente limitante come ragionamento non ci permette ad esempio di pensare all'effetto feedback di cui vi ho parlato prima e di cui Irene vi ha dato un esempio è impossibile pensare il fatto che appunto la relazione con la macchina potrebbe retroagire sulle relazioni che noi abbiamo con gli altri esseri umani che occupano gli stessi ruoli del robot sociale e questo secondo noi è un pensiero importante è un pensiero che va pensato e quindi un approccio così limitante così netto che esclude la considerazione dell'effetto feedback dal tavolo dal tavolo dei lavori ci sembra un approccio appunto un po' povero ci sembra un approccio povero nel dall'altro estremo c'è il principio precauzionale cioè accettiamo l'ipotesi dell'effetto feedback accettiamo il fatto che i rischi sono importanti e non vogliamo una robotica sociale che diffonde e solidifica pregiudizi di conseguenza mettiamo al bando ogni tipo di design cues ogni tipo di segnale di progettazione che portano all'attivazione di quei pregiudizi e a tutto il processo che abbiamo visto che abbiamo visto prima principio precauzionale si usa questo termine in filosofia della tecnologia in etica della tecnologia per dire è meglio sbagliare per difetto è meglio sbagliare per eccesso che per difetto quindi togliamo a livello regolativo quindi a livello di policy togliamo la possibilità di sfruttare questo tipo di segnali di design cues e a quel punto la competizione su chi disegna meglio su chi progetta meglio un robot sociale ha quest'arma in meno ma siamo comunque tutti sullo stesso piano perché vale per tutti questa eliminazione dei design cues che hanno a che fare con pregiudizi immorali tra cui chiaramente i bias di genere fanno parte di questo gruppo di bias il problema qui è che se da una parte la posizione estrema dal lato opposto è troppo permissiva a nostro parere la posizione estrema da questo lato potrebbe essere troppo rigida innanzitutto non detto che ciò sia fattibile cioè dobbiamo capire se davvero noi possiamo progettare robot sociali che escludono completamente l'attivazione di ogni tipo di pregiudizio di genere nella mente dell'utente perché come abbiamo detto questo tipo di dinamiche sono radicate profondamente nella nostra psicologia quindi trovare soluzioni che bypassino il problema del tutto sembra non sembra fattibile non sembra un obiettivo che sia raggiungibile che quindi sia giusto da imporre a chi sviluppa queste tecnologie dall'altra parte ci si può chiedere se una posizione così netta non sia troppo netta nel senso che si stia rinunciando ad alcune opportunità e questo è importante dal punto di vista etico anche questo va capito non ci sono solo rischi nella robotica sociale ci sono anche opportunità di carattere etico se noi riusciamo a sviluppare robot che sono in grado di funzionare bene sia a un livello tecnico che a livello sociale nella commissione che è tipica di questo campo negli ospedali o nella cura degli anziani o nel trattamento di alcuni disturbi psicologici come l'autismo voi capite che l'impatto che tecnologie del genere possono avere sul benessere sociale è importante quindi c'è anche un interesse etico nello sviluppo di queste tecnologie dovuto all'impatto positivo che potrebbero avere sulla dimensione sociale quindi è necessario tenere badare a entrambi i piatti della bilancia una posizione così estrema come quella del principio suggerita dal principio precauzionale potrebbe rendere impossibile sfruttare questo tipo di opportunità e quindi avere un risultato che eticamente è problematico ripasso la parola a Irene per delle considerazioni conclusive e poi vi lasciamo spazio per domande ok quindi abbiamo visto un po' le proposte estreme che quindi a nostro parere sono o in un senso o nell'altro non applicabili perché è troppo rigide o in qualche modo non ottimali comunque per l'utilizzo degli agenti conversazionali detto questo qual è la nostra proposta la proposta che noi abbiamo fatto anche nel saggio presentato è che l'inserimento di feature di genere in generale di feature sociali è possibile fin tanto che queste non contribuiscono alla diffusione di visioni discriminatorie delle dinamiche di genere e al rafforzamento di bias sociali non etici ovviamente in questo caso per dinamiche per vicenni discriminatori delle dinamiche di genere ci siamo concentrati anche per mancanza di tempo e di spazio sul discriminazioni verso i fanbot e verso le figure femminili ma a questo tipo di atteggiamento può in potenza riguardare tutto quanto lo spettro di genere quindi gli agenti conversazionali dovrebbero avere abbastanza feature sociali per permettere all'utente di interagire con il sistema senza troppi problemi e nel caso migliore in maniera appunto ottimale senza però che queste feature risultino dannose e discriminatorie come poter raggiungere questo obiettivo una possibilità potrebbe essere come già detto preferire a un sistema di feature visive presentato da CyberElla quelli invece di Posi o ancora un'altra possibilità potrebbe essere inserire più varietà nelle feature sociali e di genere inserite negli agenti conversazionali ad esempio poniamo il caso di avere 10 agenti conversazionali che svolgono un task di receptionist se tutte e 10 sono tarate e raffigurate con elementi che richiamano la sfera femminile soprattutto se di un certo tipo risultano essere discriminatorie se però variamo i tratti sociali inseriti all'interno degli agenti conversazionali quindi avremo dei fanbot mailbot ma anche sistemi con diverse feature culturali per cui ad esempio pensiamo un agente conversazionale con l'IG Hub allora in quel caso come diceva Fabio anche nella slide precedente in questo caso abbiamo la tecnologia permette una maggiore opportunità etica e una maggiore inclusione anche di particolari categorie sociali all'interno appunto della visione della società moderna quindi la nostra proposta potrebbe di fatto rappresentare un buon compromesso tra le esigenze delle aziende che devono comunque vendere un prodotto che sia ben accettato dagli utenti e quelle degli utenti stessi anche se con la soluzione proposta sarebbe possibile idealmente integrare feature di genere sociali senza però che venga meno la qualità dell'esperienza utente è anche vero che con questa proposta restano aperte una serie di domande ad esempio la prima tra tutte è chi dovrebbe decidere quali feature è opportuno di implementare e quali no relegare questo affidare questo compito alle aziende come al momento avviene potrebbe non risolvere efficacemente il problema bisognerebbe quindi eventualmente designare o creare un ente apposito chi dovrebbe poi supervisionare il rispetto delle norme sempre questo ente un altro ente ancora come bisognerebbe garantire che queste norme vengano efficacemente rispettate e ancora gli utenti si fiderebbero abbastanza di questo ipotetico ente da accettare che le feature presentate aderiscano a determinati principi etici o no quindi tutte queste costituiscono una serie di domande aperte che ci piacerebbe anche discutere con voi insieme a tutte le altre domande dubbi perplessità che vorrete condividere con questo vi lascio la parola grazie per l'attenzione bene grazie interessantissimo devo dire questo veramente questo seminario allora io apro la la discussione e prego le persone che vogliono intervenire di alzare le mani nel frattempo credo che ci sia un un commento di Tommaso Pelagatti che dice ridurre la progettazione a pura compliance ad una serie di policy porta al pessimo risultato della ricerca ostinata di uno spiraglio nella policy insomma è un po' la pezza per raggiungere un vero cambiamento di pensiero e di design nel frattempo che vi prenotate ah c'è Tommaso che ha alzato le mani non so se voleva integrare questo commento che avevo fatto dopodiché c'è Nicolai Domenic da Scalu vai Tommaso sì in realtà vabbè voglio in realtà fare una domanda ulteriore cioè in tutto poi magari nel vostro saggio ci avete pensato e ne avete anche scritto però una cosa che mi sembra che non abbiamo diciamo affrontato nella presentazione è il fatto invece di non tanto di cercare di eliminare il bias ma di capire che cioè nel senso quando ovviamente si sviluppa uno strumento del genere è sempre un'interazione tra un umano e una macchina perché la fase di sviluppo è sempre un'interazione tra l'umano e la macchina per quanto poi il risultato finale possa essere un software diciamo autonomo e perché invece non si prende in considerazione diciamo un'altra via ancora ovvero quella di naturalmente cercare di ridurre tutti le possibilità diciamo di discriminazione eccetera ma rendere consapevole l'utente di quali i bias potrebbe avere la macchina Irene vuoi dire qualcosa tu? Allora sì allora dico un pochettino il mio pensiero poi Fabio se vuoi integrare aggiungi pure rendere l'utente consapevole dei bias si potrebbe fare ed è anche una delle soluzioni che abbiamo proposto nel saggio però non sappiamo effettivamente quanto sia realizzabile il modo in cui noi abbiamo proposto quest'idea è far sì che la tecnologia non solo in questo caso gli agenti conversazionali non soltanto vengano sviluppati con degli elementi che riducano i bias ma vengono anzi sviluppati con degli elementi che favoriscano dei bias positivi per così dire ossia che in questo caso favoriscano non solo limitino ma appunto aiutino la diffusione di elementi positivi in questo caso riferiti al genere rendere l'utente a conoscenza non a conoscenza sembra brutto sembra che noi lo si voglia dire coinvolgere in qualche modo l'utente nell'identificazione di questo bias di questi bias è possibile solo fino a un certo punto ad esempio nel caso di cui avevo parlato all'inizio di agenti conversazionali maschili o femminili a cui è stato attribuito come task quello della sicurezza piuttosto che quello della cura della persona è stato proprio visto da studi psicologici che sono gli utenti stessi a volere che siano integrate particolari specifiche di genere all'interno dei sistemi che si occupano della sicurezza che devono quindi essere maschili o comunque sono preferibili quelli maschili così come quelli che si occupano degli anziani è preferibile che siano femminili quindi anche ammesso che l'utente sia effettivamente in grado al 100% di riconoscere i bias presenti non è detto che voglia effettivamente agire per modificare questi bias non so se vuoi inserire qualcosa no non beh è chiaro ma magari giusto una nota sì noi abbiamo preso in considerazione l'idea che insomma ci ha ci ha solleticato e ci ha fatto anche un po' così discutere l'uno con l'altro di una di un approccio proattivo cioè se nella registrazione delle aspettative degli utenti noi scopriamo dei bias particolarmente discriminatori o eticamente problematici si può fare una scelta appunto molto forte e progettare il nostro rischiare a rischio del rifiuto dell'interazione si può disegnare si può progettare il sistema in un modo che sfidi i bias e generi consapevolezza e l'idea qui è invece di ad esempio tornando all'esempio della segretaria che è un po' semplicistico ma aiuta a capire se invece di fare se invece di modellare l'avatar di un chatbot che occupa questa posizione sociale sulle aspettative cioè la solita ragazza avvenente giovane lo si modella su invece un pari di chi tende a utilizzare questo sistema all'interno di un'azienda facciamo così quindi un uomo bianco cinquantenne si può pensare di attivare nella mente diciamo nella visione del mondo dell'utente un processo riflessivo che dice per contrasto aveva un pregiudizio nei confronti della segretaria di chi deve occupare questo ruolo invece non ci sono motivi per cui questo ruolo debba essere occupato da una specifica genere cioè da una persona dotata di uno specifico genere e tutto questo si aprono un'altra quantità di problemi infinita dal rischio della cosiddetta tecnocrazia per cui si impongono valori agli utenti non tramite un processo diciamo educativo democratico ma tramite il design tecnologico che spesso non è cosciente spesso non è trasparente e quindi può portare a problemi ci sono problemi di paternalismo cioè problemi legati al trattare l'utente in un certo modo dall'alto al basso noi sappiamo che cosa noi che progettiamo la tecnologia sappiamo cosa è giusto e cosa è sbagliato e quindi portiamo l'utente a comportarsi in un certo modo e questo è problematico perché si rispetta fino a un certo punto l'autonomia e la libertà dell'utente sono cose estremamente delicate funzionano secondo me meglio con pregiudizi evidenti quindi noi sappiamo ad esempio che nella nostra società la parità di genere è importante è un obiettivo istituzionale quindi sappiamo che andare in quella direzione anche nella progettazione dei chatbot non dovrebbe essere un problema ma ci sono mille altri valori che possono essere implementati nei sistemi e che non sono legati a diciamo consapevolezze sociali così nette e quindi capisci che qui poi il problema si complica incredibilmente perché sembra in un certo senso che l'autonomia dell'individuo o quei tipi di processi democratici che portano all'adozione di certi valori e non altri sia scavalcata dalla produzione tecnologica però sì hai fatto bene a notare questa cosa perché è evidentemente una dimensione è stata un po' una sottotraccia nella nostra presentazione perché non volevamo mettere troppa carne sul fuoco e già forse l'abbiamo fatto però appunto sì è sicuramente qualcosa di rilevante per la nostra ricerca questa si era prenotato Nicolae buongiorno beh innanzitutto molto interessante il seminario complimenti e poi è un tema che veramente tocca tantissimi aspetti dal bias cognitivo alla progettazione infatti se dovessi scegliere qualcosa magari parlerei di progettazione nel senso che direi che non si può far leva sul comportamento del cioè si può far leva sul comportamento dell'utente ma non sulle credenze che ha come avete detto anche bilanciando magari attraverso questo principio precauzionale la macchina l'utente riuscirà sempre in un certo modo a categorizzare quello che lui vuole interpretare vedere in base alle sue esperienze ci sarà sempre un certo bias anche se cerchiamo di non averlo e volevo chiedervi se invece avete mai preso in considerazione o pensato a un step un attimino più indietro al sistema di rating sociale utilizzato in Cina se l'avete mai sentito se sapete cos'è perché anche questo è un discorso interessante ovvero io produttore ho questo prodotto la macchina e la macchina magari potrebbe controllare l'uso linguistico che viene fatto segnalarlo ed etichettare anche il comportamento poi però chiaramente questo compito non starebbe al progettista in sé sarebbe quasi più un compito sociale e direi anche normativo non so se più o meno si è inteso quello che intendo è chiaro sì vai Fabio qui si entra nel campo in un altro campo che ha molto a che fare con quello che abbiamo detto oggi e con la robotica sociale in generale ma non solo che è il campo delle tecnologie persuasive persuasive o della cosiddetta captologia captology cioè tutto quel sistema di tutte quelle riflessioni che si chiedono come fare per influenzare il comportamento degli utenti in generale insomma di chi interagisce con questa tecnologia tramite appunto soluzioni tecnologiche molto varie cioè non per forza robotica intelligenza artificiale come nel caso del sistema di rating in Cina ma anche semplicemente mettere in campo delle architetture decisionali per fare in modo che le persone tendano a scegliere qualcosa invece che altro è un campo affascinante di nuovo come come puoi immaginare il problema è la dignità e l'autonomia dell'individuo questo è un problema più per noi occidentali che per altre culture dove l'individualità ha un rapporto diverso con il il comune il benessere comune una delle un po' trite ma forse ma io credo reali differenze che si portano spesso tra la cultura cinese e la cultura europea è proprio un rapporto diverso tra l'individualità e il benessere comune di qual è il problema il problema è che per loro diciamo è più accettabile il discorso di influenzare i comportamenti individuali tramite dei sistemi di rating ad esempio per massimizzare un bene comune a noi questa cosa fa molta più paura cioè fa scattare dei campanelli di allarme in continuazione si potrebbe pensare una cosa del genere applicata al nostro discorso sì si torna un po' ai ragionamenti che facevamo prima cioè di influenzare l'utente e i modelli mentali dell'utente tramite la tecnologia è un di nuovo è una una cosa estremamente delicata come anche dicevi tu Nicolai non si sa bene a chi proporla se proporla agli ingegneri se proporla ai policy makers se proporla agli utenti stessi quindi attivare dei processi di consapevolezza e così via è una questione estremamente delicata secondo noi promettente ma c'è tanto lavoro da fare grazie quindi alla fine comunque ha più responsabilità in questo momento direi l'ingegnere nel trovare un attimo una soluzione all'intermezzo ma sai questo dipende da da molte cose dipende da come ti poni tu nei confronti della regolazione della tecnologia la responsabilità secondo me certo come dire fino a un certo punto è dell'ingegnere però l'ingegnere lavora in un'organizzazione le organizzazioni sono complesse hanno come dire coinvolgono molte personalità diverse che hanno scopi diversi ruoli diversi in organizzazione le organizzazioni fanno parte di società che dovrebbero pensare a questo problema e quindi proporre anche linee guida o policy ma come ha detto il vostro collega Tommaso forse le policy hanno i loro problemi e le regolamentazioni hanno i loro problemi io tenderei a pensare alla responsabilità come distribuita è distribuita è distribuita è già distribuita ora come ora c'è in assenza di regolazione è ovvio che è l'ingegnere quello che può avere un effetto tangibile nel breve periodo non è una soluzione sostenibile questa portare tutto sulle spalle dell'ingegnere per la costruzione di un'innovazione tecnologica che è sensibile ad alcuni aspetti etici non è sostenibile come soluzione ed è anche abbastanza ingiusta quindi forse la cosa importante è coinvolgere certo grazie Andrea questo c'era scritto sopra ed è fondamentale per il mio intervento c'è una slide in cui si parla dei problemi no delle risposte agli input abusivi c'erano tre possibili risposte a me interessava la seconda risposte negative come rifiuti gentili e ironici o insulti verso l'utente io non ho capito perché due cose come rifiuti gentili e insulti verso l'utente sono stimesse nella stessa categoria perché secondo me anche visto quanto detto prima suggerito anche da Tommaso un'ottima soluzione sarebbe semplicemente segnalare all'utente quasi interrompendo quella magia della conversazione con il robot come se fosse un essere umano di interrompere quella magia e dire all'utente guarda sta dicendo una cosa e forse dovresti riconsiderare quello che mi stai dicendo e poi non lo so cioè semplicemente mi è sembrato mi è sembrato forzato cioè mi è sembrato quello strano che queste due cose come rifiuti gentili e insulti verso l'utente venissero inserite nella stessa categoria e che poi non si sia pensato semplicemente a interrompere la comunicazione in questo modo e semplicemente dire guarda stai sbagliando cioè non stai sbagliando perché sarebbe un po' saccente però comunque stai dicendo qualcosa che forse dovresti riconsiderarlo magari inserire un messaggio preimpostato che dice guarda stai dicendo delle cavolate parliamoci chiaro e poi avevo un'altra domanda veloce ma forse volete prima rispondere a questa non so sì posso rispondere io Fabio allora per quanto riguarda l'utilizzo del termine negativo che racchiude quindi i rifiuti gentili e gli insulti vengono messi nella stessa categoria semplicemente perché in questo caso il sistema sta rispondendo in maniera negativa a un input quindi invece di dagli spago all'utente e quindi continuare su quell'argomento qua il termine negativo indica piuttosto un rifiuto appunto del sistema di continuare questo tipo di rifiuto può essere fatto in maniera più cortese quindi attraverso appunto rifiuti gentili cosiddetti oppure può avvenire in maniera più drastica con a sua volta un insulto verso l'utente quindi il termine negativo non sta a indicare il tipo di rifiuto gentile che viene dato all'utente ma semplicemente il fatto che con questo tipo di risposte il sistema vuole bloccare quel tipo di conversazione quindi fornisce un output negativo in questo senso non so se è abbastanza chiaro sì sì per me è chiaro grazie ok invece per quanto riguarda quello che dicevi prima di utilizzare maggiormente questo tipo di rifiuti per segnalare all'utente che quello che sta dicendo non va bene in questo caso può andar bene se viene trasmesso come appunto in maniera molto cortese per così dire del tipo per esempio quello che mi stai dicendo non è appropriato magari parliamo di altro faccio un esempio proprio così generico in questo caso può essere considerato accettabile e infatti è una delle tipi di risposte più utilizzate insieme alle risposte non grammaticali e non coerenti non è considerato più accettabile quando il sistema risponde come ad esempio dicevi tu guarda che stai dicendo delle cavolate evitiamo a seconda dell'utilizzo di parole che viene associato a questo tipo di rifiuto gentile anche se il concetto di base è lo stesso ma a seconda del tipo di termini che si scelgono l'utente considererà queste indicazioni più o meno accettabili quindi nel primo caso può avvenire effettivamente che magari anche dopo qualche tentativo a vuoto l'utente poi cambia effettivamente argomento nel secondo caso si passa al problema di cui parlavo prima anche ossia del fatto che questo tipo di output viene considerato offensivo o se non offensivo comunque la macchina assume un atteggiamento paternalistico che come diceva Fabio difficilmente gli utenti accettano da parte di un sistema da parte di un oggetto inanimato per lo meno d'accordo grazie mille è stata chiarissima e poi al senone di disturbo volevo fare anche un'altra domanda veloce si è detto che tendenzialmente associamo a livello proprio socioculturale insomma è molto più probabile che nel nostro immaginario un insegnante di fisica sia un uomo e un insegnante di lettere sia una donna però è facile ora è facile ipotizzare che per esempio tra 5 10 20 30 anni sempre che non ci uscita prima il suo riscaldamento globale questa cosa non sia più così e ce lo dicono i numeri e gli studi che vedono un incremento per esempio delle donne nelle facoltà scientifiche che è un incremento irrisorio però comunque è una crescita che esiste e non possiamo sapere quanto effettivamente crescerà la mia domanda è posto questo non sarebbe prendere in considerazione le differenze di genere e tutto quello che riguarda tutto l'immaginario collegato ai non solo ai due generi tra virgolette ma all'intero spettro di genere prendere in considerazione tutte queste cose non sarebbe ristagnare su un pensiero non so come dire quasi di di primarietà del genere voglio dire non stiamo forse dando troppa importanza al genere adesso tante correnti filosofiche sociali forse penso sicuramente anche politiche stanno mettendo il genere da parte nel senso che oggi sì il genere è fondamentale nella definizione di chi sono ma forse non dovrebbe essere forse non dovrebbe essere così fondamentale in situazioni come quella dell'intelligenza artificiale non so se mi sono spiegato bene voglio dire che forse il fatto che quando devo costruire un'intelligenza artificiale devo mettermi devo impostare una modalità parlo in termini spiccioli da assoluto profano devo impostare una modalità simil femminile e una modalità simil maschile sia un po' un'idea proprio da superare Irene posso io vi ruberei un attimo la parola perché anche la mia domanda si collegava a quella appena fatta così almeno chiudiamo visto che siamo ormai superato l'orario e uniamo le due cose la domanda mia che si collegava a quella fatta da Andrea Fahilla è un po' più diciamo scherzosa ma si collega al solito discorso ossia se non diciamo proprio magari da noi che siamo un po' un po' un po' fantasioso giusto per andare nello stereotipo se non era possibile elaborare un un nuovo genere con determinati comportamenti che potessero diciamo che non essere meccanici e rigidi ma ugualmente diciamo essere adattabili e non avere non essere legati al genere femminile un transgender diciamo robotico non mi dispiacerebbe come diciamo come esperimento di ricerca detto questo aggiungevo un'altra mia un'altra considerazione dunque noi siamo in un ambiente in una società fondamentalmente digitalista e di libero mercato avete citato il discorso della Cina ma lì si tratta anche di nazioni di impostazione politica diciamo di strutturazione politica molto diversa dalla nostra non dico bene o male semplicemente diversa avete fatto l'esempio del Giappone in Giappone c'è un sistema economico di tipo capitalista liberista però unito a attualmente una visione sociale profondamente maschilista e anche in particolare visione del concetto del lavoro mi chiedo se ma intanto tutte queste problematiche quindi secondo me in ogni caso vanno declinate sulla sulla diversità di società di ambiente e sul discorso che appunto siamo in un libero mercato quindi casomai il meccanismo si attua a livello poi di accettazione del prodotto a meno che ovviamente non si tratti di e questo sì allora lì la problematica di linee guida secondo me si può aprire quando si tratta di robot e che lavorano e che vengono assunti diciamo e prodotti per quanto ottiene l'ambito pubblico quindi nella pubblica amministrazione negli ospedali e così via quindi è più io lo vedo più come discorso misto in cui alla fine se si tratta di prodotti ripeto di tipo pagati dal pubblico e diretti al pubblico che devono seguire delle linee guida che devono essere elaborate ma se si tratta di scusate di prodotti per il libero mercato deve essere in qualche maniera la società che stigmatizza accetta o rifiuta determinati prodotti in genere a quello che poi la società stessa elabora nella sua evoluzione non so se mi sono spiegata chiudo perché c'è il cane che abbaia è chiarissimo grazie è chiarissimo sono venute fuori dei problemi interessantissimi c'è poco tempo provo a coprire un po' tutti poi ti passo la parola Irene se vuoi fare dei commenti ulteriori allora partendo dal discorso che faceva Andrea certamente alcuni dicono questo alcuni dicono che è ora di lasciar perdere il genere nella progettazione di robot sociali la minoranza la minoranza combattiva anzi quindi persone spesso persone che si sono formate alla scuola del femminismo ad esempio e che quindi hanno una chiara idea di cosa significa riprodurre tramite strutture sociali certi pregiudizi qui è bene introdurre una differenza che serve molto spesso per trattare questi problemi che è la differenza tra il descrittivo e il normativo cioè noi viviamo in una società che con buona o cattiva coscienza questo ve lo lascio decidere a voi a livello normativo si sta muovendo verso la parità di genere cioè pare ci sia consapevolezza ci sono programmi sociali volti a raggiungere questo obiettivo della parità c'è molto discorso sui vari diciamo problemi di cui la nostra società soffre che sono basati sulla discriminazione di genere però poi c'è la dimensione di fatto cioè c'è la registrazione di delle esperienze che gli utenti fanno con chatbot o robot caratterizzati in maniera maschile e femminile e finché le registrazioni gli studi psicologici quindi gli studi sul campo portano un'evidenza per cui il robot maschile è più autoritario o più affidabile è difficile che le imprese non sfruttino questo potenziale questo può cambiare tra 20 anni questo può cambiare tra 30 anni quindi si può fare un discorso di lungimiranza ha senso impostare ora un business sulla produzione di chatbot per l'educazione femminili nell'insegnamento della filosofia quando magari tra 30 anni i licei classici scientifici e tutti quelli dove si insegna la filosofia saranno pieni di professori maschili questa è una domanda di business e qualcuno se la pone però è una domanda capito che si situa sulla dimensione descrittiva e comunque di bias alignment non poni il problema etico di come questo si riflette sulla società però ovviamente è una domanda da porre quindi è sicuramente una cosa da considerare per quanto riguarda invece le osservazioni di Enrica entrambe molto belle entrambe ci sarebbe da parlare per un sacco di tempo sul genere robotico dico due cose c'è chi propone una caratterizzazione il più assessuata che ancora è un termine strano da usare in questo ambito perché sono prodotti tecnologici non hanno un sesso però una progettazione assessuata dei chatbot è una battaglia contro i mulini a vento fino a un certo punto perché modi per proiettare genere noi li abbiamo sempre di nuovi sempre di più imprevedibili quindi è difficile da attuare però sì ci sono ricerche che tendono proprio a questo a situare a creare un nuovo immaginario in un certo senso a creare un nuovo genere immaginario legato a questo tipo di agli agenti artificiali così che si crei una sorta di cultura nei confronti di questo genere che sia sconnessa da rappresentazioni che hanno a che vedere con gli esseri umani penso che il tempo qui ci dirà quanto ciò sia fattibile e i risultati che otterranno però sì c'è chi lo fa ora come ora è il tipo di rappresentazione che ottiene i risultati più bassi da un punto di vista di user experience in assoluto quindi insomma c'è probabilmente molto lavoro da fare ultima nota veloce per quanto riguarda invece internazionalizzazione sempre appunto su questo tema ci sono appunto diversi studi anche che ho letto sempre sugli agenti conversazionali che utilizzavano dei modelli di agenti conversazionali con avatar femminile maschile e neutro e come diceva anche Fabio quello neutro non era minimamente al livello di come prestazione degli altri due quindi sì idealmente sarebbe preferibile avere un sistema anche più fluido in questo caso però il problema è sempre che la user experience o comunque le prestazioni del sistema devono essere mantenute quindi bisogna trovare un equilibrio tra implementazione e questo tipo di elementi ti riporto subito la parola mi è venuto in mente Irene che in effetti qui c'è un'altra nota da fare e cioè che esiste anche il mondo animale il mondo animale immaginario quindi la riproduzione di animali cioè si dà la forma si dà forma animale a certi tipi di robot animali a cui associamo certe virtù ad esempio c'è un robot per l'assistenza negli ospedali che ha la forma di un orso e la foca anche la foca esatto vi lascio continuare perché vedo che ci sono altre mani alzate quindi se diciamo non vedo perché uno si continua a discutere non può farlo però io vi devo lasciare quindi voi continuate pure poi torno per chiudere la registrazione grazie grazie ancora arrivederci 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 quindi sì c'è anche questa dimensione che in effetti è sfruttata da qualche da qualche azienda della riproduzione di forme animali chiaramente è molto come dire tra l'animale e il il fumetto o l'animazione e quella in effetti è una frontiera si tende chiaramente però a proiettare genere anche sugli animali quindi non è così chiara la questione però è un'opportunità invece un paio di considerazioni sul discorso dell'internazionalità internazionalizzazione e del libero mercato due temi importanti per noi d'accordissimo su quanto ha detto Enrica per quanto riguarda l'internazionalizzazione cioè noi quello che vorremmo offrire è uno schema di analisi per trattare questo problema e che può essere poi applicato nelle diverse culture è chiaramente un problema culturale la variabilità culturale qui è fondamentale quindi quello che a noi più premeva è appunto offrire uno strumento che poi potesse essere utilizzato uno strumento di analisi che poi potesse essere utilizzato nelle varie culture senza per forza fare delle presupposizioni su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato nella rappresentazione ma offrire degli strumenti grazie ai quali ogni cultura all'interno di ogni cultura all'interno di ogni gruppo sociale sia possibile poi produrre delle opinioni su ciò che è giusto sbagliato nella rappresentazione appunto nello sfruttamento di questi bias nella produzione di robot sociali e poi insomma ogni società deve fare il proprio lavoro per così dire c'è il problema del libero mercato ovvero che scelte di questo carattere possono risultare problematiche in un contesto dove la competizione è tra culture ovvero se risulta faccio un esempio breve per intenderci se risulta che in Italia l'aspettativa è per le segretarie giovani e belle come governo emano una policy che dice che non si può rappresentare così i chatbot oppure da ingegnere consapevole e responsabile decido che il mio chatbot non lo faccio così ma l'utente può comprare il chatbot sviluppato in Giappone o in Germania o in Inghilterra o dove in un altro stato dove invece queste preoccupazioni non diventano né questioni di policy né questioni etiche dal basso non ho ottenuto alcun risultato se non quello di deprimere l'industria nazionale no l'impresa nazionale lo sviluppo nazionale di questo tipo di prodotti questo è un altro problema enorme vero è che alcune organizzazioni internazionali diciamo così come l'Unione Europea sta impostando la propria strategia di marketing e di sviluppo di tecnologie importanti come l'intelligenza artificiale proprio propugnando un'identità etica cioè uno degli adagi che si sente spesso è che siccome in Europa non possiamo contare del di su fondi e su tecnologie già avanzate come in Cina o negli Stati Uniti noi insistiamo sull'aspetto socio-culturale ed etico per caratterizzare la nostra offerta e se questa sarà una scelta lungimirante diventeremo leader a livello mondiale quindi magari questa è una strada possibile è chiaramente un problema estremamente complicato che non abbiamo diciamo le armi ora come ora per risolvere per lo meno io Irene scusate vi devo salutare anch'io perché ho un altro impegno quindi chiudo la registrazione e vi lascio continuare grazie Maria molto interessante grazie buona serata allora a questo punto prego